La presenza di Corrado Passera, l'amministratore delegato di Banca Intesa al Ministero dello Sviluppo e ancora, come dicevamo, ulteriore conferma Antonio Catricalà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Lorenzo Ornaghi che è l'attuale Rettore della Cattività. Mi chiamo Antonio Bitonti, sono di Montesano-Salentino, provincia di Legge. In arte mi chiamano tutti Uccio Sciocchi. Di fare un gruppo di spogliare gli istri di tutta l'Italia, cioè gli amici miei quando facevo il militare mi ricordo che ci divertivamo e ci spogliavamo. Andavo sempre in nada e faceva ma che freddo fa, ma che freddo fa, porco, e ci spogliavamo. Uccio Uccio, dai, 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 a posto, a posto, a posto, mi ricordo quello di Torino, quelli di Lano, mi ricordo di tutto il nord, c'è in tutte le parti e penso che adesso con questo gruppo che voglio fare, del militare, i miei amici, penso che faccio abbastanza successo. Pronto? Ehi Simone, ciao! Ciao zio! Me, come stai? Stai bene? Posso. La nipote che fa? Ma Chiara? Ehi, a casa. A posto, sta bene? Hai trovato lavoro? No, guarda. Ma no ancora, guarda. Qua è una disperazione, qua non sto proprio lavorando, qua non si sposa nessuno, non mi chiama nessuno. Le fabbriche, quelle 5-6 fabbriche a Montesano, qua hanno chiuso, qua non so, guarda. Staci impazziscono i poteri, sai? Guarda, mi devi aiutare per forza, se no qua non freddo. Tu c'è un gruppo di spogliorellisti di tutta l'Italia. E c'è un gruppo? Un gruppo di spogliorellisti. Allora, infatti io comincio a ballare con i miei amici, facciamo lo spogliorello, facciamo e balliamo, facciamo. Ma tutti i maschi siete? No, poi c'è pure, voglio andare a invitare, pure Nata. Nata? Nata, la cantante Nata. Poi mi spoglioccia tutto il gruppo e poi viene Nata con le canzoni sue. Via! Cos'è la vita senza l'amore, è solo un albero che voglia e non ha più. Eccoci poi qualche tensione, ci chiama e poi facciamo esodio. Ma quanti spogli poi nudo? No, no, nudo. Nata, lì, dov'è fare? Vè fare? Vè, 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 vè. Vè, 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 vè.